Se vinci due milioni e mezzo, anche uno stronzo da record sa che deve fare. Compri una casa bella solida, un'indistruttibile scatoletta giapponese e metti tutto il resto in azioni al 3,05% per pagare le tasse. E quella è la tua base, capisci? La tua cazzo di fortezza della solitudine. E questo ti mette per il resto della vita a livello del fottiti. Qualcuno vuol farti fare qualcosa? Fottiti. Il tuo capo ti fa incazzare? Fottiti. Avete visto che bel clickbaiting? Perché rimarrete poveri? Perché se continuate a fare molte delle cose che state facendo, rimarrete poveri. Adesso vedremo un po' quali sono quelle che a mio parere è meglio evitare. Mi scuso già con chi di voi è ricco, scusatemi, umilmente. Ora, per applicare la regola del fottiti, che credo che sia la regola migliore che esiste in questo mondo, non dovete essere, parafrasando Frank Gramuglia, poveri come la merda. Quel tipo mi fa morire da ridere. Certe cose fanno più che pensare, sono più che vere. Iniziamo col fissare alcuni concetti. Uno, ricco non vuol dire lusso. Ricco vuol dire poter disporre del proprio tempo e poter applicare la regola del fottiti. Due, non è un problema di intelligenza generale, perché la maggior parte delle persone sono povere, in quanto la maggior parte della popolazione maschile conosce quasi tutto di calcio o cose simili, femminile quasi tutto di sopopera, cagate tipo grande fratello e stupidaggini del genere. Quindi non è un problema di memorizzazione o di deficit cognitivo. Ma di focus sulle cose importanti, invece, delle minchiate che non portano nulla nelle nostre tasche. Tre, il concetto di lavorare per aspettare la pensione, per poi godersi la vita, a mio parere è qualcosa di non contorto, ma più che contorto, è un supplizio. Cioè, per quale motivo uno deve basare la propria vita lavorando per godersi la vita verso i 65, magari i 70 anni, quando si ha più di un piede nella fossa, sempre che ci si arriva? E intanto passare a lamentarsi tutti gli anni precedenti, magari fare anche un lavoro che non piace? Cioè, a me questo concetto di vita mi pare un po' assurdo, per carità, che la società insegna questo alle persone, quindi per la maggior parte delle persone è accettabile. Però, se siete spinti anche in un mercato ad alta volatilità e anche alto rischio, in certe situazioni come quello delle criptovalute, credo perché volete rompere questo schema. L'ultimo concetto che dovete avere bene in testa è l'investimento utile e l'investimento non utile. risparmiare per comprare delle azioni, per comprare macchinari che vi faranno fare più soldi, per comprare, che ne so, un immobile che sarete in grado di rivendere con un guadagno o di mettere a rendita con una buona rendita, eccetera, eccetera, ha un senso. Indebitarsi per la stessa identica cosa può avere un senso se, avete fatto bene tutti i vostri calcoli, e il guadagno è superiore all'indebitamento. Andare a indebitarsi per andare in vacanza o per comprare la borsetta o per comprare la macchina grossa che non ci si può permettere oppure mangiarsi tutti i risparmi per quello è una delle migliori strade per rimanere poveri tutta la vita. Ora, questi quattro punti sono, credo, lo specchio perfetto di come pensa il cittadino medio nella nostra società. Il ricco è quello che ha solo lusso, l'aeroprivato, le troiette, Lamborghini, eccetera, 2. Ottima conoscenza di calcio, sopopera e cose del genere completa ignoranza di qualsiasi cosa sia la finanza quando sarò in pensione mi goderò la vita nel frattempo mi indebito o spendo tutto quello che ho per auto, viaggi, eccetera e mi lamento che devo aspettare la pensione per godermi la vita e nel frattempo rimango insoddisfatto. E invidio colui che ha fatto soldi perché sicuramente ha rubato, sicuramente un criminale sicuramente ha avuto solo fortuna. Questo è un po' la nostra società. Se vi riconoscete in questi punti è meglio che iniziate a modificarne. Per uscire e per riuscire a essere tra virgolette ricchi, cioè padroni del vostro tempo e applicare la regola del Fottiti, dovete trovarvi un settore in cui siete bravi che vi appassiona, vi appiccicate come una cozza e poi cercate di estrarre maggior profitto possibile da quel settore. Nel mio caso è il settore degli investimenti, ma io sono tra virgolette nato così, nel senso da ragazzino mi interessavano già gli investimenti, ho studiato economia, ho preso una laurea magistrale in economia. Mentre frequentavo l'università ho iniziato col Forex e i primi investimenti, ho portato avanti i vari investimenti, poi sono approdato un po' per caso sulle criptovalute, ho visto che c'era un'alta volatilità, quindi alta volatilità significa maggior rischio, ma possibilità di ridurre il tempo per raggiungere il famoso Fottiti. Perché più un asset si muove verso l'alto e verso il basso, più avete opportunità con relativamente pochi soldi di guadagnarne di più se siete in grado di gestire e leggere il mercato. Siccome siamo un canale cripto, vi do qualche consiglio per sfruttare al meglio questo mercato, dove io ci ho visto una nicchia, mi sono messo anima e corpo, tanto per intenderci, io dal fine 2016 non c'è un giorno che non leggo una notizia o non guardo il grafico su Bitcoin, questo vuol dire metterci anima e corpo, dovete viverci sopra, cioè diventa la vostra priorità, quella è la vostra priorità. Poi avete anche tutto il resto, ma quella è la priorità, fino a quando, finché non sarete soddisfatti dei risultati ottenuti. E uno dei principali consigli che vi posso dare per non rimanere poveri come la merda tutta la vita è fate l'opposto di quello che generalmente fa la massa e dicono i media. Cosa significa? Mettiamoci nel nostro settore, quello delle criptovolute. Quando più o meno si era qua, sotto i 4.000 dollari, chi c'era se lo ricorderà benissimo, sicuramente il Bitcoin andrà a 1.200-1.500 dollari, pam, verso l'alto. Poi quando eravamo qua sicuramente andranno i massimi, siamo tornati invece intorno all'area di 5.000-6.000 dollari. Precedentemente nel bull market stessa identica cosa, sicuramente si va a 50.000 dollari, i cicli si sono allungati, cos'è il ciclo dell'alvin, c'è l'alvin, circa un anno e mezzo dopo siete sul top. Ma poi, strano, quest'ultimo ciclo, molti di voi che sono entrati nel mercato in quest'ultimo ciclo, capiscono benissimo quello che dico. La prima salita la possiamo quasi passare, nel senso, bisognava prendere profitto, ma c'è stato tempo, se non si è riusciti, di prenderlo successivamente. Successivamente, quando ormai l'orologio, tra virgolette, biologico dei cicli del Bitcoin, qui è stato un po' più veloce, ma se no, circa il famoso anno e mezzo ormai era in scadenza, i cicli si sono allungati, si andrà di sicuro sopra i 100.000 dollari e poi, stran! Quando siamo arrivati qua, dopo il crollo di FTX, vi ricordate, 12, 14, 12, 10, ormai sono sicuri, tutto sta andando in tracollo, tutto verrà giù, sbam, verso l'alto. Quindi fate tendenzialmente l'opposto di quello che viene fatto dalle masse, soprattutto nei macroeventi. Macroeventi, che cosa intendo in questo mercato? Il bull market, quando inizia a diventare, tra virgolette, vecchio, cioè passato l'anno e qualche mese, e il bear market, quando inizia a diventare, tra virgolette, vecchio, quindi quando ha circa un annetto di vita. Lì dovete fare molta attenzione, perché succedono sempre le solite cose. Quindi o sono tutti bear, o sono tutti bull, e poi il mercato ovviamente fa il reverse. Le e-media di settore, tutti bear o tutti bull? I media classici, sentite parlare di bitcoin e anche magari non troppo male in televisione? Quando? Quando è verso i massimi della bolla? Neanche un anno dopo, poco più di un anno dopo, ne sentite parlare come l'ultima merda, come il peggiore scam del mondo. Vale anche con l'economia. Io mi ricordo ancora illustri professori che dicevano a fine 2021 che avremmo avuto un 2022 buono sui mercati, ma come cazzo si fa a dire una cosa del genere? Si sapeva che la Fed avrebbe bloccato il quantitative easing, quindi soldi facile, applicato una stretta monetaria e alzato i tassi per bloccare l'inflazione che stava accelerando di continuo. Quindi come cazzo si fa a dire una stupidaggine del genere? Io a volte mi chiedo se non sono pagati per farlo, se proprio stupidità, credo più la prima, perché chiunque ha fatto economia a fine 2021 non poteva dire una minchiata del genere. Sembra quasi fatto apposta per far sì che le masse rimangono povere, come anche i consigli, investite in un bot che vi dà il 3% lordo a 5 anni, 6 anni, il 5% in 10 anni, ma che cazzo me ne faccio di quelle cifre? Cioè rimango un pezzente tutta la vita, cioè come si fa anche solo a pensare di investire in cose del genere per poter migliorare, cambiare la propria esistenza? Ho le classiche frasi, non si investe in azioni che sono pericolose, non si investe in criptovalute, è ancora peggio, ma la persona normale, come sono io, come siete voi, in questo mercato ha trovato un qualcosa di raro e che non sapremo quanto possa durare, di avere un'opportunità di poter applicare la regola del fottiti, perché sfruttando l'estrema volatilità del bitcoin e anche dell'alcoin, se si sa gestire il mercato e leggerlo, si ha una chance per riuscirci, essere avidi quando tutti hanno paura, avere paura quando tutti quanti invece sono avidi e surriscaldati bull, e poi come si entra in un mercato a pack, cioè vi date un livello e poi comprate un po' per volta, si esce nella stessa identica maniera, io quando sento dire se va a 14 compro altrimenti no, se va a 100k vendo altrimenti no, dico vabbè, la possibilità di rimanere fuori dal mercato oppure completamente dentro il mercato che crolli è altissima, ma non ha proprio senso, perché non è così che si investe nei mercati, non esiste, nessuno di noi sa il futuro, nessuno di noi sa un prezzo preciso, e concludo ricordandovi che le criptovalute, se volete che vi diano quella possibilità di spinta per cambiare la vostra vita, dovete prenderlo come un lavoro, non come un hobby, come un lavoro, e poi dovete fare, dovete operare, muovere il mercato, seguirlo, perché la teoria è importante, a mio parere studiare è molto importante, vi evita tantissimi errori e recuperate parecchio tempo, ma poi serve tempo, fare, sbagliare, e seguirlo come un lavoro. Bene, adesso siccome sono povero di merda, devo andare a lavorare nel fast food, in mezzo a quelle patatine e l'odore di fritto schifoso, vi saluto.